Sei? Sì. Allora prendo e porto a destra o a sinistra, dietro, mi porto anche in avanti, muovo dietro, inclino, faccio anche un movimento laterale, destra e sinistra, muovo in avanti. Ok, per l'apertura del bacino. Avevi fatto qualcosa all'inizio, proprio la primissima cosa, la primissima posizione che era del fuso. Ok, fuso, lì, tac, e vado col busto destra e sinistra, faccio gli allungamenti, riscaldamento proprio. Si può fare anche in avanti, eh, il fuso si può fare anche in avanti, eh. Ok, vediamolo un po'. Fuso in avanti è questo. Ok, mi lascio contenere dall'amaca in tutta la parte superiore. Ok. Perfetto. Poi, ti ricordi, molto importante era mettere il tessuto doppio. Ah, esatto. Qua abbiamo sotto la coscia e anche un gluteo compreso. Sì. Apertura. Apertura. Esatto. Questo esercizio qui. Sì. Con la trinachia. Ah, la trinachia è vero che ce l'avamo, scordate. Sollevo, esce. Ok, da qua possiamo fare anche i guerrieri, abbiamo visto il triangolo, è la posizione giusta. Perfetto. Ok. Questo è esaurito così.